Musica Bello a tutti ragazzi, bentornati nel Dark Channel, io sono Dark1C e bentornati in questo nuovo video di Dragon Ball Xenemers Allora oggi andremo ad affrontare probabilmente la saga degli androidi Vediamo un po' Hey! Distorsione altra perché non è scomento che ho parlato di mira, accetti l'incarico? Certo che si! Alla camera del tempo! Vediamo un po' cosa ci aspetta adesso Sicuramente vedremo Trunks del futuro, per forza Era 1667, vediamo un po' Già qui È la parte degli androidi? Ah, infatti non doveva andare così Oh cacchio Ma... oddio... no Goon, nooo! Mamma mia, è cambiata tantissimo la storia Wow Ah quindi abbiamo saltato direttamente la saga degli androidi e siamo passati da questa qua Al torneo di Cell Al torneo di Cell Povero mister Satan Mamma mia, dovremmo affrontare Cell Wow No, Cell... Eh... Non lasciar morire Mr. Satan... Non mi dite che devo combattere a fianco a Mr. Satan? No, non ci credo, non ci credo, ditemi di no Nooo Che alleato del cacchio Aia E Cell è quella forte purtroppo Dai No, 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 no Che questo è un giudizio, ha salvato quell'idiota, eh Cell però me hai rotto tre quarti di scatola e tu, eh Aia Basta, fermati Basta Cell, con calma Ora tocca a me Mr. Satan, hai rotto leggermente le scatole Aia, aia, ah, ah, dolore No No Hai leggermente lisciato, caro mio Fine settimana Eh, voto preso BOOM Vai, carica di energia, carica di energia Ricarichiamoci, ricarichiamoci prima che arriva Mr. Satan, non fa cacchiate Fine settimana, tutto in faccia No, maledetto Maledetto di un Cell Eh, però Cell si vede che è superiore rispetto agli altri temici No No, no, no Fammi fare a me Bastardo Fine settimana Eh, mo' mi hai rotto le scatole però No, aia, aia, no, 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 fermo Capsula di energia Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Perfetto, usala Aia, usala, usala, usala No Aia Basta Usala, usala, capsula Usala, usala Alzati, alzati, alzati Veloce Usala, perfetto Uh Allora No, Mr. Satan Sto arrivando No, mi ha schiattato Mr. Satan Bastardo di un Cell Dai, Cell, fuori No, bastardo Mr. Satan, non fatti i cacchi tuoi Via, 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 via No, aia Mr. Satan, se muori Madonna, come mincacchio I tuoi trucchi, Mr. Satan I trucchi te li mettono Sai dove? Ho fallito o no? Sì, meno male, meno male Madonna, Mr. Satan Fai schifo Andiamo avanti, vai così Vediamo un po' cosa succederà dopo Siamo riusciti a salvare a culo Mr. Satan Anche perché sarebbe Oh, bravo Cell Oh, great He's still alive Next up Is Che succede adesso? Ma che cosa sei? Stop Oddio Mr. Satan così forte Non l'ho mai visto Wow Mr. Satan combatte fuori dai piedi Vai Ah, quindi saremo io e Goku Contro Mr. Satan e Cell Bello Bello Goku Super Saiyan Ma perché noi Mr. Satan? Vediamo un po' che riesce a fare Questo tizio qua Mr. Satan non è capace di volare In effetti Non è mai stato capace di volare Ma che cacchio Excellente Battle for so much Dai Due forze Mi pare Ah, vabbè Questo è Cell contro Goku Kaioken E ora Ti becchio anche un fine settimana Potenziato dal Kaioken Ah Mr. Satan Tu devi morire Non hai capito? Vai così Muori Mr. Satan Muori Vai Vai Viva Vai Ricarichiamoci Veloce Carica di energia Dai Che ti sto aspettando Mr. Satan Vabbè Va bene Ok Hai avuto il suo momento di gloria Ma basta Oh Veramente Basta L'ha schivato Bastardo Hey Mr. Satan Boom Vieni qua Boh basta Questo non me lo schivi Oh Boh basta Mr. Satan Hai davvero stancato tantissimo Dai Muori Mr. Satan Basta C'è 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 io e Goku stiamo per esser stati fatti fuori Però La differenza è che lui da Cell e io da Mr. Satan Però Ah muori Basta Oh Ah è giusto Così era finita Cell aveva eliminato i limiti del ring E poi usciva un bel combattimento Vabbè ragazzi Questo video Io lo concludo qua E quindi vi ricordo di mettere mi piace Iscrivere e commentare E ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti